Comincia in questo momento Ischia Real Frattaminore prima della Domenica delle Palme Occhio subito Del Deo al centro, il cross, la palla deviata, ancora Del Deo toccato in aria, subito calcio di rigore per l'Ischia, appena un minuto il contatto con il numero 5, Miscino, allora penalty Parte Luca Di Spigna, spiazza Odesco e porta in vantaggio subito la rinascita Ischia appena due minuti, Trani, prova subito per Muscherello, grande la giocata l'apertura per Varchetta, ha spazio sull'auto di sinistra c'è Ciccio Trani a rimorchio, il tiro di prima, palla larga sulla palla cross al centro sul secondo palo, svetta Varchetta, salvataggio sulla linea del numero 10 e poi il tiro di Di Spigna, Parodesco, c'era offside la sfera, nulla da fare, ancora chiuso, la va a recuperare nuovamente ancora Paradiso, Caparbio, riesce poi anche a tenerlo in campo aspetta un movimento, Muscherello sul primo palo, il tiro si propone Trani, lo vede il numero 4 contro la sfera, c'è Fondicelli largo, Trani invece si mette in proprio calcia, palla larga Petro in tutta tranquillità, si propone Fondicelli Varchetta lo vede, lo serve con i tempi giusti Luca Fondicelli, cross al centro Muscherello, la sfera resta lì Muscherello, il tiro, la parata del portierodesco poi ancora Gigio Trani che gol si è divorato Muscherello difendersi da un'altra offensiva isolana cross al centro verso Matarese qui se lo divora anche Matarese si trova la sfera, nuovamente il numero 4 serve nel corridoio ancora il numero 11 steso in area, altro calcio di rigore in favore della rinascita Ischia steso Gigio Trani al 37esimo Matarese contro Odesco spiazza il portiere Sigel 2 a 0 Antonio Matarese Gigio Trani nel corridoio buona la sfera ancora Gigio Trani prova a calciare il tiro Odesco respinge Matarese contro Odesco il tiro e c'è il gol 3 a 0 dell'Ischia ancora Antonio Matarese ha ribadito in rete la respinta non perfetta di Odesco sarà dura fronteggiare anche la ripresa Trani c'è Muscarello Trani va tutto da solo ancora Gigio Trani entra in area Gigio Trani che gran gol di Luigi Trani salta tutti si presenta di fronte a Odesco e fa poker grandissima l'azione del numero 11 giallo-blu non la riesce a controllare bene poi steso tutto regolare secondo il direttore di gara si rialza ancora Gigio Trani in area cross al centro Matarese si devora la tripletta si riprende a giocare allo stadio Mazzella rilancio verso Cristian Muscarello il controllo non è perfetto ancora Muscarello però attacca l'uomo Muscarello a tu per tu il tiro esce il gol trova il gol anche Cristian Muscarello eccolo qui mi sa che la partita terminerà tra poco situazione davvero surreale l'ischia vince al cinquantesimo di gioco 5 a 0 perché la Real Fratta Minore in sette uomini finge un infortunio